Ciao a tutti ragazzi, siamo su Rainbow Six e siamo pronti per affrontare una nuova partitozza questa volta però non siamo in una partita classificata ma siamo in una partitozza libera allora, perché sto mettendo un po' a punto certi personaggi, operatori, personaggi, quello che sia con varie armi per vedere su quali armi mi trovo meglio e quindi sto mettendo un po' di tromboncini, un po' di mirini, sto facendo un po' di test insomma e quindi me le sto sparando in libere giustamente, non in classificate uno perché sono più corte, due perché sono un pochettino un po' più semplici e una volta che avrò messo a punto un po' tutto, torneremo alle classificate comunque, bando le ciance, i secondi stanno per scadere, siamo pronti per scendere in battaglia siamo nei panni di Capkan al momento e andiamo subito proteggiamo l'ostaggio, ok va bene, rinforziamo la stanza nessun problema ho una sorpresa per i nostri amici con Rampino siamo a 10 secondi restano 5 secondi piazziamo un po' di trappole ragazzi oh cazzo, 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 attento fai attento, bello dai, fai in fretta, fai in fretta eh, mi sono trovato un bel posticino ragazzi sono proprio sulla tazza del cesso almeno se devo andare a fare la cacca sono già qui, guardate che schifo eccolo, eccolo che culo che culo muori muori stronza, muori, muori, muori sono un operatore alleato gli attaccanti hanno perso l'ostaggio l'ostaggio è stato ucciso abbiamo perso il round ragazzi nel frattempo ne abbiamo seccati due siamo morti però ok, va bene c'è mancato poco comunque il cesso mi ha portato fortuna ok ok, localizziamo l'ostaggio vediamo se lo troviamo subito ragazzi ok, io provo ad andare al piano superiore vediamo se faccio bene si trova sotto ragazzi oh no torna di qua, torna di qua salto della quaglia ok 10 secondi ah miseria 5 secondi all'inserimento c'ha fregato c'ha un fregato c'ha un fregato ok l'ostaggio è individuato intanto l'ostaggio è stato individuato bene non ti conveniva metterti lì cazzo un operatore alleato rimasto ah ecco dove sei bastardo guardate guardate all'esterno round 3 ragazzi ci proviamo muro rafforzato posizione l'ostaggio compromessa tenetevi pronti 10 secondi cazzo 10 secondi già guarda questo ancora 5 secondi la squadra d'attacco ha un contatto visivo con l'ostaggio porta con trappola state alla larga ed è montato non avvicinatevi preso bello ah vaffanculo spero che ti schianti contro la mia mina adesso bastardo ricarico ok vediamo se riusciamo a dare un po' di supporto ai nostri colleghi ragazzi pure pure catturato ragazzi cioè non ci credo gli attaccanti non hanno più l'ultimo nemico rimasto attento bello attento attento bello ok oh mamma mia attenzione chi cazzo è che ti ha sparato questo se la sta passando male invece dai vai a salvarlo un attimo oh round perso mannaggia vabbè oh sto cazzo di cesso comunque sconfitta totale ragazzi termina qui la partitozza sconfitta e sconfitta totale praticamente vediamo cosa abbiamo combinato noi invece noi invece ci siamo nella mia squadra sono quello che ha avuto il punteggio maggiore grande la prima volta in assoluto si vede che questa volta i miei compagni di squadra facevano ancora più cagare di me no non lo so comunque mi è andata bene tre uccisioni se riuscite a farle tre morti ci siano aggiudicati 735 punti aggiudicandoci il primo posto nella mia squadra e niente ragazzi concludiamo qui questo video grazie a tutti da vostro ascolto e ci vediamo al prossimo match ciao a tutti